Non si può certo dire che il 2013 sia cominciato sotto i migliori auspici se si considerano i dati diffusi da Union Camere sulla base della rilevazione statistica condotta da Infocamere che riguarda la chiusura delle imprese nel 2012. Mille imprese al giorno hanno chiuso i battenti. Il motivo? La crisi si trasferisce sui tempi di pagamento dallo Stato alle aziende ma anche tra i privati. Mi sento un Ronne Piperno del Marchese del Grillo. Hai fatto benissimo il lavoro, complimenti, grazie, sei il migliore sulla piazza però non ti pago. Purtroppo in Italia è possibile dire a un appaltatore non ti pago anche se hai tutte le carte in regola. Dopo 40 anni di mia attività oggi sono costretto a vendermi casa e non so come fare con le mie maestranze che sono tre mesi che non prendono lo stipendio.